Non sono mai stato fermo, ho sempre giocato, quindi trovarmi ad affrontare un infortunio così che magari all'inizio si pensava meno grave di come poi si è scoperto. Quindi non ero nemmeno, come si dice, nell'ottica di stare fuori così tanto. Quindi è stata dura per me. Devo tanto comunque a questa società perché comunque io, prima di questa società, comunque sono stato sempre nei dilettanti, ho fatto sempre la serie D. Poi qua abbiamo vinto, abbiamo fatto un percorso eccezionale, arrivando fino in serie B, quindi è stata fatta una cosa magnifica. Sto recuperando, sembra un po' meglio ultimamente. Sono stata a visita la settimana scorsa da dottoressa Favilli, ho fatto due infiltrazioni di acido di anuronico proprio nel tendine e ora sto procedendo nel percorso che mi ha dato lei e sperando che le cose vadano bene, come devono procedere per cercare comunque di stare bene per il ritiro. Nebbe, sono sette anni che giochiamo insieme ovviamente, poi è stato anche per lui il primo anno che abbiamo giocato un po' non insieme, quindi poi lui ha cambiato un po' ruolo, comunque ha fatto il centrale, di solito era abituato a fare il centro-destra e comunque si è responsabilizzato tanto, ha migliorato tanto anche lui in questa cosa ovviamente. E lo doveva fare per forza e comunque non essendoci io doveva prendere i miei veci soprattutto in campo ed è stato bravo. Ovviamente io ho massima stima, ho un rapporto al di là del calcio con lui e spero tanto che comunque lui rimanga. Sono passati tanti anni, tanti allenatori, tanti direttori sportivi, soprattutto negli ultimi anni, è stata dura. Però la cosa che conta più di tutti per me a livello personale è che io ho sempre avuto e ho ancora tantissima voglia e adesso ho ancora di più perché dopo essere stato così tanto fermo è proprio quella la mia forza che mi sta facendo andare avanti e di ritornare lì in mezzo e dimostrare ancora di più il mio valore. Il mister Maurizio è molto simile a Viverini anche come idea di gioco perché hanno qualche idea differente, però molto simile in tante cose quindi mi ci trovo bene. Ci vuole l'organizzazione e la programmazione giusta perché magari altri anni ci è mancato qualcosa è sotto gli occhi di tutti, se no non stavamo come abbiamo tribolato in questi anni. Bisogna ripartire da quello che già abbiamo fatto quest'anno e portartelo con, ripeto, più organizzazione, più programmazione e poi si può fare solo che bene, secondo me.